ragazze vi ho detto che non c'è bisogno che mi accompagnate fino a dentro la stanza funziona così guarda gira gira così ti prendi tu così ti prendi tu così tutti insieme ma capisci italiano non so come ho fatto il check in signora signora internet non c'è non c'è internet internet computer no signora signori do you speak english english c'è qualcuno che parla inglese in questa inglese no no one in inglese ok thank you